Arrivo Paolo, non cominciare senza di me! Paolo aspettami! Paolo! Paolo Pasquali! Sulle mano! Chi non alza le mano, gli rubano la macchina! Voglio sentire l'urlo di tutti quelli che non rubano da una settimana via! Secondo me qualcuno ha pure di più della settimana! Voglio sentire l'urlo di tutti quelli che sono già stati in ferie! Ma già finito? Già finito così? Voglio sentire l'urlo di quelli che in ferie ci devono ancora andare! Voglio sentire l'urlo infine di tutti quelli come me che in ferie quest'anno non ci andranno! Allora avete fatto bene a venire qua perché Fabio abbassa un pochino perché è l'ultimo venerdì prima di feragosto! Però noi 25 staremo ancora qui per finire la grande feragosto e fare un pezzo di settimana! E allora sentiamo l'urlo di tutti quelli di voi nati negli anni 80! Pochi eh? Pochi? Perché pochi? Perché la serata è vintage! La serata è revival! La serata è retro! La serata è antica! Capito? E quindi questa sera noi vi facciamo ballare il bellissimo degli anni 70! 80, 80, 90, 2.000! E sentiamo subito l'urlo di tutti quelli come me nati negli anni 70! Che sono sempre la maggioranza! Sicuramente non ci sarà nessuno di voi nato negli anni 60! E' pieno dei vecchi, pure stasera! Voi rimanno a casa io, non vi preoccupate! Meno male che non c'è nessuno di voi nato negli anni 90! Lo fate ancora adesso a cambiare locale eh! Va bene? Attenzione, facciamo un applauso al DJ che ha preriscaldato la serata subito prima di Frank e Cantia Band Eccolo il console, direttamente da casa sua Franco Sciampli! Dai vado alle ciance, siamo un po' in ritardo e giustamente abbiamo apporto un grande gruppo Frank e Cantia Band Facciamo salire loro, facciamogli un applauso loro sono bellissime! Poi stasera in particolar modo sono bellissime di solito sono bellissime ma stasera sono bellissime proprio non lo so perché, ma ogni sera cambiano! Fate un applauso, loro sono le vintage angels! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Grazie a tutti Grazie a tutti